In questi giorni abbiamo sentito veramente di tutti i colori da parte di quelli che stanno al governo contro le partite IVA, contro gli esercenti, contro gli imprenditori. L'altro giorno il vice ministro Grillino Castelli ha detto che se i ristoratori sono in difficoltà possono tranquillamente cambiare il lavoro. Abbiamo sentito anche uno del PD misiani dire che le partite IVA non stanno così male, c'è chi sta peggio. Io chiederei a questi signori di passare un giorno, un solo giorno a vivere e lavorare con gli esercenti, con le partite IVA, con gli imprenditori per vedere cosa si prova. Cosa si prova soprattutto in questo periodo dove bisogna fare versamenti, dove ci sono tutte le scadenze del fisco che arrivano tutti assieme perché loro non hanno voluto prorogare come si faceva ogni anno le scadenze fiscali. Un solo giorno a vivere da partita IVA per questi signori e vediamo dopo cosa ne pensano, cosa pensano di essere una partita IVA in Italia in questo periodo.